È un'opportunità gigantesca per un semplice motivo, perché la tecnologia che offre OpenFiber è Fiber to the Home, quindi è direttamente la fibra che arriva a casa direttamente dai clienti. Questo ovviamente è un aspetto importante da valutare, perché quando si parla di fibra, esiste la fibra Fiber to the Home e la fibra Fiber to the Cabinet. Quella Fiber to the Home è quella che permetterà in futuro di poter accedere a molteplici servizi, quindi è molto più future proof.